Allora siamo qui al cantiere, siamo qui appunto al cantiere del ponte, stanno asfaltando in questo momento qui abbiamo sempre il nostro amico titolare dell'impresa che è andato giù, sappiamo che è andato giù in famiglia due giorni, senta allora sabato apriamo, sabato apriamo, senza nessuna limitazione, senza niente dobbiamo aprire e basta. Quindi adesso si sta completando, finalmente ce l'abbiamo portata a termine è soddisfatto perché senza entrare nel merito economico, comunque è un bel lavoro, c'è stato un bel rischio poi cerchiamo di portarli a termine. Quanto avete lavorato qui praticamente? Noi abbiamo iniziato ad ottobre però il lavoro effettivo sono stati quattro mesi, quattro mesi e mezzo. Com'è stato con questo CODIB lavorare? Un disastro proprio. Perché se no senza questo CODIB... Tieni conto che mancano ancora i pezzi per virtù del covid, vedi, mancano i cordoli che arriveranno, speriamo che arrivino domani mattina e mettiamo anche quelli. Certamente, senza CODIB un mese prima sicuramente per fine aprile era aperto il ponte. Perché non potevamo fare a meno. Mancavano i pezzi. Perfetto. Mancavano i pezzi. Perfetto. L'assessore ci ha detto che non faranno un'inaugurazione, la vorranno fare quando sarà tutta. Quando sarà ultimato tutto. E lei ci sarà sicuramente. Sicuramente. La ringrazio, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Arrivederci.